Ciao a tutti, sono Valerio Rovara di Fage Network. Oggi vi parlo di Miss Marks, uno dei film con più candidature ai David di Donatello, ne ha ben 11. Sul nostro sito Fage.it abbiamo analizzato diversi film candidati ai David di Donatello e vi ricordiamo che martedì 11 maggio ci sarà la premiazione in prima serata su Rai 1 che commenteremo sul nostro canale Twitch su YouTube Fage Network, quindi vi invitiamo a seguirci e a commentarla con noi. In questo video vorrei parlarvi un po' del film e dirvi che l'ho trovato molto bello, è girato tecnicamente bene e è di Susanna Nicchiarelli, una regista, ha anche scritto il film, ha 45 anni ed è davvero brava. E si vede la mano di una donna in un film che parla di una delle figlie predilette del grande filosofo Karl Marx. Eleanor Marx, la protagonista del film, si svolge a cavallo tra il 1800 e il 1900, ma la peculiarità sono le battaglie. Che combatte questa donna figlia, comunque porta un cognome importante sulle spalle, che combatte queste battaglie per i lavoratori e le lavoratrici, in particolare delle fabbriche e lo sfruttamento minorile che c'era all'epoca comunque nella società. Il problema che viene affrontato durante il corso del film, lei era molto sveglia fin da piccola e già il papà che le aveva insegnato tante lingue, le aveva insegnato la letteratura, da amare Shakespeare, amato anche molto da Karl Marx, viene proiettato anche nella vita di questa figlia Eleanor, che cresce con dei principi che erano molto simili a quelli che scriveva ed emanava, di cui parlava il papà. Eleanor Marx, poco conosciuta, l'ho scoperta con questo film, ovviamente tutti noi conosciamo il filosofo Karl Marx, i suoi scritti per lo più politici, sulla proprietà privata, e devo dire che fu una delle prime donne a battersi per l'emancipazione femminile ed in particolare per l'uguaglianza di genere. Durante tutto il corso del film noi vediamo tantissime sfaccettature. Romola Garai, l'attrice britannica che interpreta appunto Eleanor Marx, bravissima, l'ho trovata bravissima, fa una parte in cui ci mostra anche le sfaccettature di questa donna. Il film alterna scene di quando la bimba era piccola e quindi era molto sveglia, già molto sveglia, con la famiglia parlava dei suoi interessi anche in maniera scherzosa e sapeva tantissime cose, era molto colta come bambina. E la vediamo anche avere nella vita privata numerose disavventure, se vogliamo, con questo uomo di cui si innamora, ma che non può sposare perché precedentemente è sposato con un'altra donna e non poteva divorziare quest'uomo. Poi lei viene a sapere anche che quest'uomo la cornificava. Diciamo che Eleanor Marx è stato un personaggio che forse se ne ha parlato troppo poco. Ne abbiamo parlato anche nel video di Volevo nascondermi, nel quale avevo fatto una piccola parentesi sul fatto che le nuove generazioni conoscano poco questi personaggi e lì in particolare c'era uno degli artisti più innovativi nella metà del Novecento, che era il pittore Antonio Ligabue. Mi sono soffermato sul fatto di come è stato poi interpretato il personaggio. Si vede, dicevo che dietro la macchina da presa c'è una donna. È un grande manifesto sulla libertà e sulla forza delle donne. L'ho definito così scrivendo anche l'articolo sul sito feige.it e parlando di un film che, a parer mio, è girato tecnicamente benissimo. I costumi e la fotografia, secondo me, sono quella cosa in più che ha il film, magari rispetto ad altri concorrenti, che vedremo poi protagonisti ai prossimi David, perché ricalcano benissimo l'epoca della quale stiamo parlando e mi è piaciuto particolarmente il fatto che durante il film, tra l'altro la protagonista emigra negli Stati Uniti insieme a quest'uomo di cui si innamora e ci sono fotografie in bianco e nero dell'epoca e quindi di immigrati che cercavano la fortuna nel nuovo mondo e si evince anche dai volti, i volti scavati, dalla fatica, le foto davanti alle fabbriche, queste ciminiere, questo fumo che contornava le grandi città post-rivoluzione industriale e devo dire che Ico Mills era anche una bileuratrice questa donna, Eleanor Marx, e mi sono rimasti impressi le sue sfaccettature, quindi la sua forza d'animo, vederla ai tavoli con gli uomini, cosa che uno dice è impensabile per l'epoca. Leggevo tra l'altro pochi giorni fa un articolo nel quale alcune scoperte scientifiche e tra il 1800 e il 1900, soprattutto nel 1900, all'interno delle quali c'erano delle donne, tipo la cessione dell'atomo che ha portato poi alla costruzione della bomba atomica, c'è stata di mezzo anche una donna, una famosa scienziata, però il merito poi lo ha preso l'uomo che alla fine insieme a lei era arrivato a questa teoria, a questa legge, e mi è rimasto impresso il fatto che poi nell'articolo si diceva che questo scienziato l'avesse citata come sua allieva, quasi una collaboratrice, e invece era stata quasi la protagonista. Questo per dirvi quanto le donne abbiano fatto fare passi da gigante alla società e anche all'evoluzione culturale della società. Questo film, Miss Marx, parla proprio di questo, secondo me, e ci dà dei messaggi molto importanti, purtroppo, e non me l'aspettavo, perché Donate Film forse viene poco fuori, anche se, come dicevo, vediamo tutte le sfaccettature di una donna che nella vita pubblica era un qualcosa di intraprendente, un rullo compressore, veramente una donna fortissima, con due attributi così, verrebbe da dire, e poi nella vita privata aveva un malessere interiore che purtroppo la portò a suicidarsi a soli 43 anni ingerendo del veleno. Al di là della morte che viene trattata così tanto all'interno del film, devo dire che è un film fatto veramente bene, mi ha ricordato un po', a livello di scenografia, costumi, la Emma, un film candidato agli Oscar di quest'anno che abbiamo commentato insieme su Feige.it e che pensavo potesse vincere perlomeno i costumi, per i tanti costumi cambiati dagli attori nel corso del film. Tra l'altro Emma era ispirato a un romanzo di Jane Austen. In questo caso parliamo di un personaggio realmente esistito e chissà se la giuria dei David vorrà anche premiare lo sforzo di una regista e sono molto contento. Torno su questa cosa perché mi è piaciuta molto, nel senso di come si stanno imponendo anche le donne dietro la macchina da presa e c'è tutta la bellezza, la pazzia, l'intraprendenza. Le musiche mi hanno fatto impazzire una delle ultime scene del film nel quale la protagonista si mette a ballare e a danzare come una pazza con musiche moderne. Ovviamente una parte romanzata di un film che però ti lascia tanto, ti lascia tanto su le battaglie che poi venivano combattute all'epoca, il come venivano trattati male anche i bambini, lo sfruttamento minorile purtroppo era molto diffuso e il lavoro, il lavoro che era parte integrante di una società con l'avvento dell'industria e quindi delle macchine. C'erano sia tantissime, anche morti sul lavoro, problema attualissimo dopo che questa settimana quella ragazza Luana di 22 anni è morta, chiacciata da un macchinario e si torna a parlare di morti sul lavoro, quanto anche all'epoca il lavoro potesse sia dar da mangiare alle famiglie, sia però portare via fatica, tempo e anche la vita a volte. Quindi credo sia un film che forse è passato troppo di nicchia, ma come dire, c'è stato anche questo periodo che non ha aiutato purtroppo il cinema italiano, ma è uno dei migliori prodotti italiani di una regista, la Nicchiarelli, vi consiglio di andarvi a cercare anche altri film, altre pellicole, altri lungometraggi di questa regista perché secondo me ha tutte le carte in regola per diventare una delle registe più famose nel panorama, anche internazionale. Io vi do appuntamento sui nostri canali, Fage.it, la sera siamo in streaming su Twitch, Fage Network, ci trovate su Instagram, su Facebook e qui su YouTube dove cerchiamo di raccontarvi quello che c'è dietro ai film e le storie che accompagnano la nostra cinematografia, i film e le serie tv. Io sono Valerio Novara e vi ringrazio e vi saluto. Grazie per l'attenzione.